Buon pomeriggio, buona domenica e ben ritrovati al consueto appuntamento con Sette Giorni Magazine in cui vi raccontiamo la cronaca della settimana e siamo a lunedì con lo sciopero, con la protesta dei camionisti e dei tassisti che ha paralizzato la Puglia e in particolare Bari. Le vie del centro sono state bloccate dai tassisti che dicono no alle liberalizzazioni, traffico in tilti invece sulla tangenziale a causa degli autotrasportatori che dicono no al caro gasolio, all'aumento dell'IRPEF e dei ticket autostradali. Sentiamo. Dalla Sicilia sbarca nel resto del paese la protesta del cosiddetto movimento dei forconi contro il rincaro del gasolio, dei pedaggi autostradali e dell'IRPEF. Oggi i blocchi attuati con i tiri in tutta la Puglia hanno provocato disagi non solo agli automobilisti. Il più pesante e con maggiori ripercussioni sul traffico è stato il blocco attuato sulla tangenziale di Bari all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggio Franco, con tre chilometri di code su entrambe le careggiate. Ma il programma di liberalizzazioni previsto dal governo Monti ha causato indignazione e proteste anche da parte di altre categorie. Oltre a quella degli autotrasportatori, oggi è anche il giorno dello sciopero dei tassisti. 150 i tassisti provenienti da tutta la Puglia che si sono dati appuntamento in Piazza Libertà a Bari davanti al Palazzo della Prefettura per dire no al decreto sulle liberalizzazioni delle licenze. «Questo governo ci vuole gettare in mezzo alla strada. Noi chiediamo solo tutele per il nostro lavoro», ha urlato Vito Dellino, rappresentante sindacale. Lo sciopero andrà avanti fino a questa sera, fino alle 23. E va detto che il malessere è talmente elevato che l'adesione da parte dei tassisti in Puglia è stata del 100%. Intanto per venerdì dovrebbero incrociare le braccia. Anche i ferrovieri per il primo febbraio è annunciata la serrata delle farmacie. Restano da definire i 10 giorni di sciopero proclamati dai benzinai. Intanto il Ministero dell'Interno ha assicurato che il Governo segue con molta attenzione le proteste degli autotrasportatori perché nulla esclude che questi malesseri possano sfociare in manifestazioni di tipo diverso. E' sempre lunedì con la pagina della politica. Lecce sarà Loredana Capone della PD a sfidare Paolo Perrone per la corsa alla poltrona di primo cittadino. La vicepresidente della giunta regionale pugliese ha vinto le primarie del centro-sinistra, ma vediamo tutti i dettagli in questo servizio. 433 voti di scarto. Con questo leggero divario la vicepresidente della giunta regionale pugliese, Loredana Capone, ha trionfato alle primarie del centro-sinistra a Lecce. Sarà lei la sfidante di Paolo Perrone per la poltrona di primo cittadino. La candidata del Partito Democratico con il 48,2% dei voti ha superato Carlo Salvemini, sostenuto da Sinistra Ecologie, Libertà e altri, che ha guadagnato un onestissimo 41,3%, e Sabrina Sansonetti che ha raccolto solo il 10,4% dei consensi ed era sostenuta dall'Italia dei Valori. Loredana Capone ha annunciato la volontà di costruire una vera alleanza e ora la candidata del centro-sinistra guarda l'Udc per allargare la coalizione che alle prossime amministrative sfiderà Perrone e il centro-destra. Ma dal partito di Casini la porta al momento sembra chiusa. Il segretario provinciale Salvatore Ruggeri ha già messo alcune cose in chiaro. L'Udc seguirà la propria strada, ha detto Ruggeri, rispondendo alle domande del nuovo quotidiano di Puglia e chiarendo che l'Unione di Centro segue la strada del terzo polo. Dopo il successo della Capone non sono mancati i commenti di Paolo Perrone. Il sindaco uscente ha sferrato il suo attacco al PD dicendo che per il Partito Democratico il risultato è modesto, pochi voti considerando tante forze in campo. E siamo a martedì con il naufragio della costa Concordia. È stato riconosciuto il corpo della Coratina Maria d'Introno dopo essere stato ritrovato nei giorni scorsi a confermarlo la prefettura di Grosseto e si cerca ancora invece il musicista di Alberobello. Vediamo. Ritrovato nei giorni scorsi a poppa della nave Concordia, il corpo di Maria d'Introno, la trentenne originaria di Corato, è stato riconosciuto ieri. A confermarlo la prefettura di Grosseto, la donna, si trovava sulla nave da crociera per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei suoceri. Non viveva più a Corato da tempo, si era trasferita in provincia di Biella dopo il matrimonio con Vincenzo Rosselli. I familiari della d'Introno sono sempre rimasti sull'isola in attesa di buone notizie ed hanno anche cercato la donna incessantemente. Il marito all'indomani del salvataggio aveva raccontato quelle drammatiche ore. Era tutto un caos, aveva detto, e ci siamo buttati in mare con il giubbotto salvagente. Così siamo riusciti a raggiungere l'isola, tutti tranne la mia adorata Maria. Il corpo di Maria d'Introno sarà portato a Corato dopo la consegna ai parenti da parte delle autorità. Si cerca ancora invece il musicista trentenne di Alberobello, Giuseppe Girolamo. Le ricerche, secondo quanto detto dal commissariato delegato all'emergenza, Franco Gabrielli, proseguiranno fino a quando sarà possibile ispezionare la nave. Intanto iniziano oggi i lavori di svuotamento di carburante della Costa Concordia. La compagnia da parte sua ha smentito la voce che potessero trovarsi a bordo lavoratori clandestini. Le liste esatte di tutte le persone imbarcate e partite dicono vengono comunicate alla sede della compagnia subito dopo la partenza. Nessuno a bordo ha facoltà di derogare dalle procedure di sicurezza. Dovrebbe essere depositato domani o giovedì prossimi invece il ricorso al Tribunale del Riesame di Firenze con cui il comandante della nave Costa Concordia, Francesco Schettino, chiederà la revoca degli arresti domiciliari. E' sempre martedì l'assessore alla salute della Regione Puglia, Tommaso Fiore, dopo tre anni lascia al suo posto sulla poltrona più scomoda della Giunta regionale pugliese un altro tecnico, il dottore Ettore Attolini, a dare l'annuncio. Martedì mattina il presidente della Giunta regionale pugliese Nichi Vendola in conferenza stampa. I dettagli in questo servizio di Aliparla Vecchia. Per un assessore tecnico che va via ce n'è un altro che arriva al posto di Tommaso Fiore, da oggi il nuovo assessore alla salute della Regione Puglia è Ettore Attolini. Lo ha nominato il presidente della Regione, Nichi Vendola, autonomamente senza dar conto ai partiti. Una decisione che ha dovuto prendere suo malgrado dopo aver costretto Fiore a restare nonostante un anno fa avesse lo stesso Fiore preannunciato in aula le sue dimissioni. Dopo le continue richieste di Fiore di ritornare al suo posto di trincea in una delle rianimazioni del Policlinico di Bari, Vendola ha dovuto cedere. È stato per me un privilegio lavorare con una persona come Tommaso Fiore. Per un anno io ho fatto violenza perché un anno fa lui aveva annunciato in Consiglio regionale la voglia di tornare al suo lavoro, è un lavoro che lui ama ed è un lavoro che è necessario che lui faccia perché lui non è soltanto uno straordinario medico, un primario, un professore universitario. Lui ha in piedi una scuola di formazione, di specialità rare come quelle dei rianimatori. Oggi al posto di Tommaso Fiore il professor Ettore Attolini, un uomo di grande mitezza ma anche di grande determinazione. Da domani quindi Fiore sarà in trincea come lui stesso ha detto nel Policlinico di Bari anche se è fiero del lavoro svolto. Sì, le internalizzazioni sono in corso, continuano a svilupparsi nella regione Puglia. è stato un lavoro di anni che ha resistito alla giurisprudenza, ha resistito all'enorme di accompagnamento del piano di rientro, ha resistito alla Corte Costituzionale e insomma è stata una bella cosa. Il piano di rientro e le internalizzazioni sono le priorità del neoassessore. Le internalizzazioni in realtà è tutto il tema dell'occupazione che diventa una priorità, sia nel senso della garanzia dei diritti per quei lavoratori che si trovano in una condizione di precarietà o rischio di precarietà o di destabilizzazione, sia nell'ottica, nella direzione di ampliare anche gli organici del nostro sistema. E siamo a Taranto, sempre martedì sfida politica particolare nel capoluogo ionico, due porno stare in corsa per la poltrona di sindaco. Sentiamo. Come la collega Ilona Staller, a differenza però della più nota cicciolina, Amanda Fox e Luana Borgia non hanno scelto il Parlamento ma la sfida, le primarie per la poltrona di sindaco a Taranto. Le due porno star, la Fox 26enne polacca e la Borgia 44enne milanese, gareggeranno in una competizione politica tutta particolare. Le loro primarie si terranno in un locale sexy della provincia ionica. Il regolamento è semplice, durante il loro spettacolo, una volta ci si sfidava sui palchi dei comizi, gli elettori, potranno esprimersi soli tarantini, consegneranno la loro preferenza in una grande urna. La vincente sarà la candidata a sindaco di Taranto Svegliati, una lista civica pronta a dichiarare battaglia a centrodestra e centrosinistra. Ne vedremo delle belle. Ancora martedì con la cronaca e ancora un colpo di scena nell'inchiesta della procura di Trani sulle agenzie di rating. Dopo le verifiche a Milano nell'agenzia di Standard & Poor's, oggi, anzi martedì, sotto la lente dei finanzieri, sono finiti gli uffici della Fitch. Vediamo. Dopo Standard & Poor's, ora è la volta di Fitch. Le fiamme gialle del nucleo di Bari hanno effettuato accertamenti e verifiche nella sede di Milano della società di rating Fitch, indagata per market abuse. Su disposizione della procura di Trani, che coordina le indagini, è stata anche sequestrata documentazione informatica e telematica, oltre che scambi di e-mail. Le indagini sono dirette dal PM della procura di Trani Michele Ruggero, che era presente alla perquisizione. Secondo l'ipotesi accusatoria, Fitch avrebbe violato le regole rivelando a più riprese l'imminente declassamento del rating dell'Italia e con questi annunci avrebbe abusato di informazioni privilegiate. Dopo l'ispezione della GDF nella serie di Fitch e Ruggero è entrato nella serie dell'altra agenzia di rating su cui sta indagando, Standard & Poor's. Non posso dare alcuna indicazione, sapete che non posso fare dichiarazioni, si è limitato a rispondere Ruggero e cronisti. L'avvocato di Standard & Poor's, Giuseppe Fornari, formalmente indagata dalla procura di Trani per market abuse insider trading, alla domanda se si trattasse di una visita prevista ha risposto direi proprio di no, ci hanno informato un quarto d'ora fa, aggiungendo di non conoscere le ragioni di questo nuovo sopraluogo dopo le prequisizioni della settimana scorsa. Proprio ieri era trapelata l'ipotesi che la procura volesse ascoltare il premier Mario Monti e il presidente della Consov Giuseppe Vegas come persone informate dei fatti. Audizioni ritenute utili dagli inquirenti dopo le loro dichiarazioni rilasciate in seguito al declassamento del debito sovrano dell'Italia da parte di Standard & Poor's del 13 gennaio scorso da A a tre volte B più. Ancora con la pagina politica e stiamo a mercoledì. Ipazio Stefano a Taranto va ricandidato, non servono le primarie, ne è convinto il leader di SEL, Nichi Vendola, di parere opposto il PD secondo cui invece comunque a Taranto non va dato nulla per scontato e le primarie possono essere utili. Vediamo. Si voterà probabilmente il 6 maggio ma il clima politico è più che surriscaldato a Brindisi e Taranto per scegliere il candidato sindaco. Mentre il capogruppo del PD alla Regione Puglia Antonio De Caro ritiene che le primarie a Taranto siano utili ma al tempo stesso dichiara a nome del suo partito di essere pronte ad ascoltare le ragioni degli altri, Nichi Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertari, tiene che il lavoro svolto fino ad oggi a Taranto da Ipazio Stefano di fatto gli dà il diritto alla sua ricandidatura senza passare per le primarie. Penso che il centro-sinistra di Taranto debba rompere gli indugi e debba partire in una campagna elettorale diciamo legata alla necessità di continuare un'opera straordinaria di cambiamento, quella che si è incarnata nella figura di un grande sindaco come Ezio Stefano. Mi pare di dover condividere parola per parola quello che ha sostenuto il presidente del PD in Puglia, il sindaco Michele Emiliano, cioè quando un sindaco prende una città come Taranto, letteralmente spolpata viva, che ha conosciuto un dissesto finanziario forse il più grave della storia d'Italia e in una sindacatura questa città esce dal dissesto e vive diciamo con tutte le sue spine, con tutti i suoi dolori un'opera di risanamento, di ricostruzione della credibilità nel rapporto tra cittadini e pubblici poteri. Insomma Ezio Stefano diciamo ha già sulle spalle primarie, secondarie, ne ha fatte diciamo votante in quella città e quindi bisognerebbe evitare di giocare. Siamo oggi a una scelta importante, noi dobbiamo sentire l'orgoglio di avere nelle nostre grandi città a Bari come a Taranto sindaci che non solo sono dotati di uno straordinario carisma e di un grande consenso popolare, ma sono i simboli viventi di quello che dovrebbe essere il centro-sinistra come coalizione del cambiamento. Ancora mercoledì con la cronaca avrebbero ottenuto fondi pubblici senza averne diritto, sequestro preventivo di circa 12 milioni di euro nei confronti di alcune società del gruppo De Gennaro di Bari, indagati gli amministratori delle numerose imprese coinvolte accusate di tentata truffa aggravata e falso ideologico. 12 milioni di euro di fondi pubblici concessi grazie alla legge 488 del 92 che stavano per finire nelle casse di due società riconducibili al gruppo De Gennaro, famiglia barese di imprenditori edili, sono stati sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un'indagine della Procura di Bari per tentata truffa aggravata allo stato e falso ideologico, in cui risultano indagati almeno 15 persone amministratori delle numerose imprese coinvolte nel presunto sistema illecito. L'inchiesta è stata avviata nel 2008. I contributi a fondo perduto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ammontavano a circa 23 milioni di euro ed erano destinati alla realizzazione di nuove strutture turistico-alberghiero, industriali e per la ristrutturazione di un centro medico sportivo ubicati nelle province di Bari, Taranto e Bat. Le indagini, si legge in una nota della Procura di Bari, hanno permesso di disvelare una fitta ed intricata rete di movimentazioni bancarie attivate dagli amministratori di 15 società satellite attraverso un'abile opera di trasferimento di fondi all'interno del medesimo circuito societario, al solo fine di prospettare una situazione patrimoniale delle imprese e percettrici dei finanziamenti diversa da quella reale. Accertata l'assenza dei requisiti previsti per accedere a quei fondi, a partire da documentazione ideologicamente falsa attestante la disponibilità dei suoli e il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Di quei 23 milioni di euro sono 11 quelli già erogati per i quali la Procura non ha ottenuto il sequestro, presentando appello al riesame. Sono il sindaco di Bari, non posso risolvere i problemi della società di calcio. Michele Emiliano è stanco di subire pressioni e ricatti sulle difficoltà del Bari e torna ad esortare la proprietà. I materrese paghino gli stipendi arretrati o chiedono il fallimento della società per evitare la retrocessione. I dettagli in questo servizio. Ho vissuto alcune polemiche della tifoseria nei miei confronti, nei tempi chiave di questa vicenda, le ho vissute come una sorta di ricatto, dal punto di vista dell'immagine, nei miei confronti, dove io non avessi in qualche modo spinto, incoraggiato altri all'acquisto del Bari. Ora io non posso svolgere questo ruolo, non lo svolgerei neanche sotto la minaccia di una pistola. Figuriamoci se quattro striscioni possono indurmi a una cosa del genere. Michele Emiliano è stanco di subire attacchi. Sono il sindaco di Bari, dice, non posso risolvere i problemi della società di calcio. In una conferenza stampa convocata d'urgenza a Palazzo di Città, il sindaco Emiliano ci tiene a chiarire il suo ruolo nella vicenda, dichiarandosi estraneo a qualsiasi personale interessamento nella ricerca di una cordata di imprenditori disposti a rilevare la società. Pronto a fare da mediatore, quindi, per ristabilire trasparenza e verità, dice, ma a patto che i Matarrese non costringano il Bari a scomparire dalla Serie B. Per la prima volta, infatti, dopo un primo tam-tam sul web, lancia pubblicamente un appello interpretando a suo dire il pensiero dei tifosi baresi. I Matarrese paghino gli stipendi entro il 15 febbraio, ricapitalizzando la società e salvando la squadra. E se non fossero economicamente in grado di farlo? Io non credo che ci siano alternative di sorta, nel senso che credo che in questo caso, anche per una questione di stile, debba essere la stessa società che deve rivolgersi al tribunale e deve chiedere, come posso dire, deve presentare il suo stato di insolvenza, per cui si tratterebbe di andare in tribunale a chiedere che il tribunale dichiari il fallimento del Bari, per potere, diciamo così, evitare in questo caso la scomparsa della società e quindi la revoca del titolo sportivo. Un'autonoma richiesta di fallimento da parte di una società che Emiliano definisce onesta e corretta per ben 35 anni, significherebbe salvare l'immagine della città, ma non solo. Il danno fondamentale temuto, quello della cosiddetta retrocessione, che poi in realtà è la revoca del titolo sportivo e eventualmente la sua riconcessione a diverso soggetto residente nel luogo attraverso il sindaco, con uno scalare ovviamente fino, credo, alla C2, se ho capito bene, potrebbe essere evitato. La politica giovedì, il cantiere del nuovo centro-sinistra deve ripartire dall'intesa di vasto tra PD, IDV e SEL, ne sono convinti di Pietro e Vendola che a Roma. In una conferenza stampa congiunta hanno aperto a Bersani, che a sua volta sembra apprezzare, dalla sala stampa di Montecitorio intanto il governatore pugliese critica il ministro Barca per l'accelerazione imposta nell'utilizzo delle risorse comunitarie e tutti i dettagli dal nostro corrispondente Gianluca Boezio. Io e Di Pietro sentiamo la responsabilità di riaprire in forma simbolica e poi in forma concreta, operativa, un cantiere. In questo cantiere è necessario che ci siano i partiti SEL e Di Vogue, ma noi speriamo innanzitutto il Partito Democratico, che è il più grande partito del centro-sinistra. Arriva da una conferenza stampa congiunta l'appello di Vendola e Di Pietro a costruire un'alternativa di governo per il Dopomonti. Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà sono convinti che insieme al Partito Democratico si possa andare oltre l'era del berlusconismo. Il programma va discusso e condiviso insieme, dicono Vendola e Di Pietro, che dunque vogliono ripartire dall'intesa di Vasto. Bersani, proprio oggi dalle colonne dell'unità, apre le braccia ad un accordo programmatico e quindi appare chiaro che per dare vita al cantiere del nuovo centro-sinistra si dovrà trovare una linea di mediazione, soprattutto sulle politiche del lavoro e sociali, da proporre all'elettorato. I DVSL intanto confermano il giudizio negativo sull'attuale esecutivo. Il governatore pugliese in particolare va giù duro con il ministro della coesione territoriale Barca, che ha imposto alle regioni del Sud di spendere il 40% dei fondi comunitari 2012 entro il prossimo 31 maggio. Se il governo vuole riprendersi le quote di cofinanziamento, lo dica, si tratta di una rapina, si tratta della condanna a morte del Mezzogiorno Italia. È la cronaca di giovedì. La polizia stradale ha arrestato ad Andria quattro uomini con le accuse di violenza privata, aggravata e continuata. Avrebbero costretto due tir a fermarsi, costringendo poi gli autisti ad aderire allo sciopero. Intanto i presidi vengono rimossi in gran parte di Puglia Basilicata. Le accuse per i quattro uomini fermati ad Andria sono di violenza privata, aggravata e continuata. Ieri nei pressi del casello autostradale di Andria, dove i blocchi contro il caro gasolio continuavano da quattro giorni, hanno obbligato due tir ad accostare e fermarsi. Gli autisti dei tir partiti da Polignano a Mare e carichi di prodotti ortofrutticoli destinati ai mercati generali di Milano, sono stati minacciati dai quattro a bordo di auto di grossa cilindrata, una delle quali, mettendosi di traverso, ha bloccato la strada. I conducenti degli autotreni però hanno chiamato il 113 e così la polizia stradale li ha bloccati. Si tratta di tre andriesi, Tobielo Russo di 43 anni, Antonio Porro di 42 e entrambi con precedenti penali, Giovanni Campana di 52 anni e il figlio 22 anni Antonio, questi ultimi autotrasportatori. A bordo dell'auto avevano sette chiodi a quattro punte, una ricetrasmittente e un paio di guanti. Uno di loro avrebbe intimato il conducente di uno dei tir di uscire al casello perché lo sciopero è di tutti e in caso contrario ci sarebbero stati guai. Il limite del legittimo diritto dei lavoratori allo sciopero, ha detto il prefetto della Batcarlo Sessa, è quello del diritto degli altri, altrettanto garantito dalla Costituzione, a non aderirvi e noi questo dobbiamo e lo abbiamo garantito. Tuttavia questo episodio non mina quanto pensiamo delle associazioni di categoria dei manifestanti i cui rappresentanti ho incontrato, che stanno agendo nella piena legalità. Intanto i presidi sono stati rimossi in più parti, nella provincia di Bari davanti alla raffineria Eni di Taranto, nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest su raccordo autostradale. Nonostante questo però restano le ricadute dello sciopero sulla produzione nazionale delle fabbriche. La Coca-Cola HBC Italia ha annunciato di essere stata costretta a fermare la produzione negli impianti di Marcianise, nel Casertano e di Rio Nero in Vulture nel Potentino. Gli stabilimenti Fiat di Melfi, Cassino, Pomigliano, Mirafiori e la Sevel saranno fermi anche domani. Cassa integrazione anche per gli stabilimenti di Foggia e Caserta della Barilla. E siamo a venerdì. Non sarà possibile spendere il 40% dei fondi europei entro il 31 maggio, ad affermarlo il governatore di Puglia, Nicchi Vendola, che scrive al ministro Barca, lei capisce che con quei nuovi target ci viene messa una corda al collo, dice, mentre l'ex ministro Fitto lo rassicura. Vediamo. Vendola torna a parlare dei fondi europei e scrive una lettera al ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Lo stesso ministro contro cui si è scagliato a Roma in una conferenza stampa congiunta con l'Onorevole Di Pietro, raccontando delle imposizioni alle regioni del Sud di spendere il 40% dei fondi comunitari 2012 entro il prossimo 31 maggio. In Puglia abbiamo fatto partire le progettazioni e tutti sanno che entro il 31 maggio non c'è la possibilità di effettuare il 40% della spesa relativa ad un'annualità, perché la spesa si concentra negli ultimi sei mesi dell'anno, per ragioni tecniche e oggettive, che non sfuggono nemmeno i tecnici del Ministero. Secondo il governatore di Puglia si tratterebbe di un modo per rastrellare risorse del Sud che saranno destinate ad altre operazioni. Contesto, ha spiegato Vendola, l'idea che si possano mettere delle regole capestro che rischiano di mandare in crisi le amministrazioni locali. Sui fondi europei torna anche l'ex ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, secondo il quale non bisogna perdere di vista il dialogo iniziato e portato avanti nel precedente governo. L'ex ministro rassicura anche il governatore sulla possibilità che i cofinanziamenti tolti alla regione Puglia possano andare alle regioni del Nord, ricordando il documento di intesa sottoscritto ai primi di novembre scorso da Governo, Commissione dell'Unione Europea e Regioni, che prevedeva il riutilizzo delle risorse nello stesso territorio. Sulle modalità di spesa dei fondi dell'Unione Europea si è espresso anche il gruppo pugliese del PDL che presenterà in Consiglio regionale un ordine del giorno dedicato in modo da blindare gli accordi presi dall'allora ministro Fitto con il commissario europeo Hans e per dare forza il governo regionale che protesta contro le modifiche annunciate dal governo centrale. Intanto l'onorevole Fitto preannuncia una mozione parlamentare per impegnare il governo nazionale a mantenere gli accordi assunti dal precedente governo e a valutare ogni possibile modifica previa intesa con le regioni. Garantire i posti di lavoro e l'assistenza sanitaria, questa in sintesi le richieste dei sindacati e al neoassessore regionale alla salute Ettore Attolini durante il primo incontro svoltosi venerdì sulla cabina di regia sulla sanità. Garantire i livelli essenziali di assistenza ai posti di lavoro del personale sanitario sono le priorità poste dai sindacati all'attenzione del neoassessore regionale alla salute Ettore Attolini durante la prima riunione della cabina di regia che si è insediata oggi. Priorità condivise dallo stesso assessore che anzi ha rilanciato ribadendo che bisogna far presto per attuare quel piano di rientro ricevuto in eredità dal suo predecessore Tommaso Fiore. I tempi sono molto stretti, non abbiamo ancora definito un programma preciso di incontri ma sarà definito nei prossimi giorni ma sono molto stretti. Io ho solo chiesto la possibilità di riorganizzarmi le idee in vista anche delle scadenze, degli impegni futuri. Il tema sicuramente è quello di riprendere o di riprendere perché era già stato avviato ma di riprendere con più, come dire, con più celerità anche. Un sistema di relazioni con le organizzazioni sindacali, di interfaccia quindi con i cittadini, con i lavoratori, è estremamente importante in un momento cruciale dell'evoluzione del nostro sistema. Noi abbiamo chiuso la prima fase del piano di rientro che ho già avuto modo di dire è quella che agli occhi dei cittadini, agli occhi di tutti, è apparsa come una fase regressiva, come una fase di chiusure, cioè ha mostrato il piano di rientro la faccia cattiva, diciamo l'aspetto cattivo. In realtà quel piano contiene in sé gli elementi di una riorganizzazione del sistema. È necessario riorganizzare, rilanciare il sistema a partire dalle cose già previste e per questo è necessaria la collaborazione di tutti a partire dalle organizzazioni sindacali e di tutte le istituzioni. Tutte le operazioni di riorganizzazione devono comunque avvenire garantendo quanto più possibile la sicurezza e la tenuta del sistema e quindi su questo c'è la necessità di una collaborazione di tutti e poi il tema dell'occupazione che è un tema estremamente delicato. E ancora venerdì a proposito di sanità siamo con la cronaca. Per anni un infermiere di Molfetta ha costretto migliaia di marittimi a pagare per ottenere visite mediche specialistiche con l'accusa di concussione. I carabinieri lo hanno arrestato. Guardate come si faceva a pagare l'infermiere in queste immagini. Vediamo il servizio. Stai zitto, me la vedo io. Tu chiamami e vieni il giorno che ti dico io. Igna, sicuro? Non ti preoccupare. È il caffè per me? Ti bastano dieci? Tieni questa per mo. Sto senza soldi. Così dal 1988 l'infermiere molfettese Ignazio Brattoli ha costretto migliaia di marittimi a pagare per essere sottoposti a visite specialistiche che di diritto avrebbero dovuto essere coperte dal servizio sanitario nazionale. Ma la mancia all'infermiere per ottenere la visita entro un certo tempo era diventata una prassi. Un sistema super collaudato che l'infermiere aveva messo in piedi facendo leva sull'aspetto psicologico dei pazienti. Più questi incontravano difficoltà nell'ottenere una data di prenotazione della visita cardiologica nell'ambulatorio di Molfetta e più Brattoli abusava del suo potere dettando lui le condizioni degli appuntamenti per le visite, naturalmente in cambio di denaro. Tutto all'insaputa del medico che effettuava le visite. A scoprire il fruttuoso giro illecito di denaro dell'infermiere durato ben 24 anni sono stati i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Trani in collaborazione con i militari della compagnia di Molfetta. All'alba i carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di concussione. Ecco le immagini registrate dai militari all'interno dell'ambulatorio nel quale avvenivano gli illeciti, unica struttura dipendente direttamente dal Ministero della Salute per garantire l'assistenza sanitaria a marittimi e personale dell'aviazione civile. Immancabile la sua agenda rossa dalla quale, come testimoniano le immagini, l'infermiere non si separava mai. Una sorta di libro nero sul quale Brattoli annotava appuntamenti con i pazienti presi, annullati o rinviati. Somme di denaro che riceveva dai marittimi, 20 euro a pratica, costretti a subire tutto ciò pur di ottenere la visita medica specialistica prima di imbarcarsi. In gente quindi il volume d'affari che l'infermiere ha maturato in questi anni e che gli inquirenti stanno cercando di quantificare. Ed è tutto anche per oggi, a domenica per il consueto appuntamento con Sette Giorni Magazine. Buon pomeriggio e buona domenica.